Marzone, dici un po', quali sono i tuoi tre kink che c'è proprio in mai più, in mai più senza? Scusami, che cosa? I kink, i tuoi kink, quali sono i tuoi preferiti? Le mie perversioni? Eh sì, fantasi sessuali, cose che ti piace fare a letto. No, credo di essere abbastanza basilare nella mia vita. E molto vanilla. Vanilla. No, no, sì, 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 sono vanilla, sono come Minecraft, sono. Mi puoi pagare ma mi puoi anche scaricare gratis, sole. Mi stavo spiacere di tutto, maestro, se scendi velocissimo qui... Sto scendendo di corsa, di corsa, scende... Una setta a piastre, maestro, se scendi veloce come uno standecco. No, maestro, sei giusto in una zona più lontana. Rieschi di morire, maestro. Ma scusa, ma perché? Là, dove sta? Ma ho preso la cosa. Maestro. Ragazzi, ragazzi, ho preso la cazzo di maschera di merda, ho preso. Maestro. E' subito che il poker è un gioco di culo, vedi? E' troppo facile. E tutti quelli che contano le carte, muti. Vabbè, cinque mani su quello della switch, cazzo di minchia. Andiamo a farci, Mario, partata. Io muovo caffè a mamma, che da baciao! Mi sono svegliato e ho pippato. Ho pippato, ex di... Con l'hungar di fronte a noi a 2,80. Capito, capito. E' uscito, è uscito, è uscito, lombò! Uno sulla casa, bian, 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 bian. Cazzo, ho detto. Trasporto magico, pa. Ah, ecco perché... Ma il Marzone è la giocata. Guarda come se la ride il maestro. Ma te è Nala, giocate tutto il giorno a sto gioco. Ma non l'ho mai... Non l'ho mai giocata, sta mappa. Eh, vabbè, allora piangete. Oh, mangi a pallone, mangi a pallone. Sembra piangere! Su di tomba. Hai fotocollato il Marzone? Come li ho fatto collati? Mi hai fatto collati? Ho fatto collati? What the fuck? Ma che cazzo stai a... Complici. Come non strema Junk? Certo che strema. Ok. E' qui su, raga, il sorcio. No, strema la merda. Ma non c'è. Vediamo mega granate, raga. Sì, sì, c'è, c'è, maestro. Che Francesco totti di la n... Hello, mother fucker. Maestro, c'è? Lo vedo, eh. La cazzo sta volando a mezz'aria, marzo. Come la cazzo? Eh, beh, prova a salirci sopra. Sì, no. È rimasta al posto che spacca il vetro. Si è fermata sul vetro. Ho spaccato il vetro, ma sta volando. No, ma a me sta sopra il vetro. Ma non ho cechinato? Oh, bella. Uccito pure un mezzo... Ma te pare che mo' mi pio tutto il cancro di Fortnite? Ma lo sai? Non sono uno streamer normale. Non la posso fare, quella roba. Perché poi ogni volta... Ah, Fortnite! Mi volevo il più ricotto! Che odio proprio, dal profondo del cuo. Cioè, tu vai là. Immagina, no? Vai in tribunale. Ti fanno... Guardi, lei però... Ha... Ha fatto che cazzo ne so... Diciamo una roba normale. Senza mettere in mezzo il fatto che tu puoi aver ucciso qualcuno. Insomma, diciamo che hai fatto atti o sceni in luogo pubblico. L'abbiamo trovata in... A pisciare su un muro del comune. Ok? Ok. L'abbiamo trovata a pisciare sul muro del comune, no? Ma guarda, questo è atti o sceni in luogo pubblico. Mi dispiace, ma dovrà seguirci in questura. Ve lo fa? No, mi dissocio. Allora il poliziotto si allontana e ti fa... Eh no! E allora va bene così. E però mi sa che ho lottato di merda. One now, one now, elicottero, aiuto! Due, ma anche uno. Mamma mia, preferivo la morte a questo cecchino. Quasi craccato uno. Vabbè. Gianchi, ma stai da play o da vc? Ah! Ah! Otti! Play! Abbiamo buttato via una partita così perché mi ha fatto un cambio d'arma veloce. No, capit, ma se io premo X, se io premo, ho sottito il mouse, lo clicco, lo sto cliccando. Dovete riprendere le armi veloci, immediato. Ah. Potrebbe essere una grande prestazione del... Mamma mia! Uuuuh! Prey! Ma ci... Dovrei giocare con... Ah! Ragazzi, ragazzi, per piacere. Sono AJ, porco Dio. Ferrarelle! Centro. Memoria muscolare data da 4.000 ore di gioco. È la mia memoria muscolare di... di Peggle, quella. Centro. No! Porco! Anzi, ma non andiamo mai a giocare Irl, mi fucili. Posso pure cercare una grande scala. Ah no, ma grande scala già l'ho fatta. E a piccola quant'è? Eh, eh, quattro numeri consecutivi anziché tre, anziché cinque. Allora hai cercan' cinque. Quindi, tre, quattro, cinque, sei. Tipo. Eh. Allora, vaffanculo, cerco sto porco Dio dei cinque. Me lo darà un porco Dio dei cinque. Un cinque! Penso proprio che non lo farò... Ah, eccolo. Era pure grande scala, in realtà. Capito? Però che l'hai già preso. Subito piccola scala, si prende subito, zio Pera. Problema è che io già ci ho sprecato i due col quattro e lo zero e l'uno l'ho buttato, cioè. No, eh, lo fa, ragazzi, lo fa. Eh, lo fa, arriva, eh. Arriva. Pocherissimo! Eh, beh, lo fa, ma lo fa, ma non vi preoccupate, lo fa. Guarda, guarda, lo fa switchare un pochino. Yacht. Puoi tornare. Non ti tocco nessuna delle tue robe. Metti dell'acqua sotto, maestro. Ok, mi ha rubato tutte le cose tue. Gianchi, hai perso tutto. Sì, ha rubato tutte le cose. No, è qua, è qua, è qua. No, hai perso tutto. Perché? Perché ti ho buttato tutto nella lava con l'acqua. Però è stata una tua idea. Anzi, usa tu la tua, vado prima io. Vai. Nella lava. Senza entrare nei dettagli, cioè chi vuole entrare nei dettagli. Spiega, vai. Perché obiettivamente è così. Ad alzata di mano chi di noi è stato beccato dai propri genitori in situazioni, o dai genitori di partner, eccetera, in situazioni pesantemente compromettenti. Pesantemente compromettenti. Pesantemente compromettenti. Io voglio sapere l'aneddoto di J-Taz, però adesso. Ero piccolissimo. C'entrano i felini, Taz? Che c'è? Eh? C'entrano i felini? No, no, niente i felini, niente i felini. Ero piccolissimo. Non so quanti anni avessi, ma avete presente quei canali televisivi che, boh, tipo dopo la mezzanotte diventavano dei canali. Ah, sì, tipo taglia 7 gold con le robe lì. Stavo nel letto e c'erano questi canali qua, non mi ricordo bene il numero, dopo la mezzanotte diventavano dei canali, il 7, ok. E niente, stavo guardando quello, stavo facendo le mie cose, ma ero piccolo, ok? Ok. E niente, è arrivata mia madre in camera. Dilla bene, però, dilla bene. È arrivata mia madre in camera che ha aperto e ho detto, ma che stai facendo? Ma? E poi basta. Vabbè, basta, lo dovevo dire. No, 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 no. Dovevo dire. Ma che Giulio sta nel tappiare? Aspetta adesso, Marzo, ce l'hai destra. A terra. Bravo, Marzo. Con un altro. Marzo, con... Ho fatto un altro. A terra due, te prego, dammi una mano. Marzo, devo... Marzo, mi sparò da dietro, devo ricaricare... Devo mettere le piastre. Oh mio Dio! Mamma mia, c'è la madre, troia! Gli ultimi due! Hanno preso uno. Axel, c'è in vita? C'è l'è dietro. Arriva. Marzo, c'è gli ultimi da lui. Eh, eh... Devo prendere le scale. Ok, sto prendendo le scale ora. Bravo, Marzo! Marzo lo accalcio. Ma ragazzo, sono il miglior giocatore del mondo! A terra. Mamma, Marzo, bello! Ma f***o. Gli f***o. Ma f***o la mamma, trama... Buon appetito! Grazie per la visione!